Io non le sapevo che c'è questo e non c'è questo, mio figlio ti ha fatto qualcosa, io nato, io o mio figlio? Nessuno. Io rispondo a quello che mi dice. C'è motivo? Come che motivo? C'è motivo che non c'è questo? Perché l'hanno messo l'altro, io nemmeno voglio dire la verità. Hanno messo l'altro? Sì, allora siccome c'è una famiglia nemmeno io volevo dire questo, però sono costretto a dirlo perché dopo succede che se qualcuno va a dire la verità, dopo io ho detto il falso. Non mi sono permettuta di lasciare i bambini a casa, per nessun motivo.